È stato uno strano anno per noi. Abbiamo dovuto imparare a vivere chiusi, rinchiusi, nascosti, come i desideri più profondi. Poi però c'è l'arte, a cui la libertà non può essere tolta, che ha continuato a plasmare il mondo dal basso come una rivolta. Siamo stati fermi così tanto. Ora è tempo di muoverci veloci e nel nostro passato d'incanto smettere di cullarci felici. E per l'arte italiana, come per i nostri amori, non è più tempo di avere pudori. Perché a volte serve un palazzo in cui entrare per poter finalmente uscire fuori. Fuori dal 30 ottobre a Palazzo delle Esposizioni, a Roma.